Siamo con il maestro Claudio Scimone, direttore dei Solisti Veneti. Quest'anno la 55esima stagione concertistica, tra le tante attività che avete, quello dei concerti della domenica. Un appuntamento per tutti, un appuntamento forse un po' diverso da quello tradizionale dei concerti che conosciamo. Un appuntamento molto gradito dalla città di Padova. I concerti della domenica sono festosi e sono anche per quelle categorie che non amano i concerti della sera per molti motivi, come le persone in età e anche e soprattutto le famiglie con bambini. Sono benvenuti anche i bambini piccolissimi dai due anni in su e se per caso accompagnano la musica con qualche suono infantile nessuno si scandalizza. Ora abbiamo un grandissimo avvenimento il 19 ottobre alle 11 all'auditore Unpolini che è la storia del soldato, l'istoria del soldato di Igor Stravinsky. È una fiaba, è una fiaba che deriva da fiabe russe dell'Ottocento e anche un po' dal mito di Faust che nel contempo si collega alla commemorazione della guerra mondiale, dell'inizio della guerra mondiale perché Stravinsky ha scritto proprio nel 1918 per mostrare la tragicità della guerra per rispondere al dramma della guerra e per dimostrare come l'umanità va da sempre in cerca di distruggere se stessa. Cioè quindi dietro questa frabra molto carina e leggera del soldato che vende l'anima al diavolo ma che poi riesce a riscattarsi e riesce a guarire una principessa, la sposa della principessa ma poi dopo tragicamente ritorna agli errori precedenti e il diavolo alla fine trionfa. C'è quindi proprio questa condanna dell'autodistruzione dell'uomo e detto questo la tragedia della guerra però nel contempo una fiaba, una fiaba che può essere ascoltata anche dai bambini perché è anche affascinante e divertente e la musica di Stravinsky è esplosiva e geniale è fatta con una piccola orchestra ma di virtuosi scatenati c'è violino, clarinetto e tromba che dialogano con un virtuosismo pazzesco e la batteria che viene usata in un modo in cui non era mai stata usata prima di quell'epoca il batterista addirittura acrobatico deve suonare con strumenti davanti e strumenti di dietro è uno spettacolo da lui solo. Invito tutti il 19 ottobre domenica alle 11 all'auditore Umpollini per la storia del soldato di Igo Stravinsky eseguita dai solisti veneti da me diretti con la collaborazione dell'autore Remo Girone.